Sì, buonasera mister, Roberto Pina, la Gazzetta dello Sport, avete portato a casa un punto importante per come si era messo alla parita e siete stati bravi a rimanere aggrappati al risultato fino alla fine, anche guardando la classifica e altri risultati forse è un punto che è vero che non vi fa fare il punteggio pieno però che vi permette di sperare ancora di più per il futuro. Io ho un gruppo di una voglia di sacrificarsi fantastico, io auguro a tutti gli allenatori di avere un gruppo come ho io, noi oggi siamo stati in difficoltà, abbiamo trovato un Cagliari molto fisico, pimpante, arrivava prima sulle seconde palle che di solito ci arriviamo noi, però noi nella sofferenza non abbiamo perso lucidità, siamo stati lì, abbiamo fatto la nostra situazione e sapevo che prima o poi qualche occasione arrivava, abbiamo avuto una con Rover al fine del primo tempo, una con Decolle all'inizio del primo tempo, poi gli episodi, al Cagliari gli hanno annullato il gol per un centimetro, noi ci hanno dato un gol, un rigore per un fallo di mano, però è una squadra che non ha perso la barra onda, è stata lì contro un Cagliari, ho detto importante, però questo è un punto importante, fa capire che quando saremo nei play-off, non so con che posizione, dovremmo giocare di queste partite. Sergio De Muro, Tutto Sport, volevo chiederti, voglio fare un discorso un po' più generale, come hai lavorato con questa squadra? Perché effettivamente il Sud Tirol io credo che sia la sorpresa di questo campionato per la posizione in classifica, anche per il gioco, ho visto oggi che comunque avete affrontato il Cagliari e vi sopperto. Sì, ho lavorato, ti ho detto, ho dei giocatori che quello che gli dici vogliono farlo, vogliono mettersi in mostra, io sono arrivato che eravamo ultimi e ci davano già per spacciati, quindi ho lavorato sulla testa, ho detto che c'erano dei valori, prima di tutto umani, c'erano dei valori straordinari, quindi non smetterò mai di ringraziare perché io sono anche abbastanza pesante durante la settimana. E poi c'erano delle qualità, tecniche e anche bravi nell'uno contro uno, perché ci sono dei giocatori che sono bravi. Quindi ho lavorato su questo, autostima, un pizzico di fortuna nelle prime partite che mi hanno dato due vittorie, perché non mi dimentichiamo che un pizzico di fortuna ci vuole. Poi abbiamo costruito la nostra identità, non dimentichiamoci che questa squadra qui ha fatto 12 risultati l'andata, 12 il ritorno, quindi non è un caso che facciamo due risultati. E' vero che siccome l'allenatore non è uno molto sponsorizzato, non è bello da vedere, urla, sbraita, fa casino, però ai miei ragazzi mi ha dato merito, che inseribili 12 risultati consecutivi, 12 risultati consecutivi nel giorno di torno fanno poche squadre e la mia squadra l'ha fatta. Quindi bravi. Buonasera. Buonasera. Lele Casini, Radiolina, salve. Volevo sapere, la mossa all'intervallo di inserire Mazzocchi, stavate soffrendo tra le linee a centrocampo, quindi hai inserito un altro che potesse anche aiutare. Di Casiraghi, non di Mazzocchi. E scusi Mazzocchi, volevo dire Schiavone, volevo dire Schiavone e Casiraghi. A centrocampo per dare un po' più di peso e aiutare Fiordilino. E poi volevo sapere se ritiene che l'1-1 sia il giusto risultato dopo la partita vista oggi. Grazie. Allora, sono sincero, dopo quando hanno annullato il gol volevo farlo subito al 3-4-1-2, volevo dare un aiuto ai miei giocatori. Poi ho detto no, aspettiamo l'intervallo, invece abbiamo preso il gol. Nell'intervallo ho dovuto cercare di cambiare la situazione e quando abbiamo messo questa situazione ho visto che la squadra si è assestata bene. Poi hanno avuto due ripartenze sui nostri errori di impostazione. E quindi noi durante la settimana proviamo vari sistemi di gioco. Poi alla notte li tiro fuori 1, che molte volte sbaglio, come ho sbagliato il primo tempo, per l'amor del cielo. L'1-1. A livello di mole di gioco il Cagliari ha avuto un grande possesso di palla, ha avuto l'occasione di fare il 2-0. In Serie B se non fai il 2-0, non è come la Serie A, se non fai il 2-0 prima o poi una palla la concedi. Vuoi per la bravura dell'avversario del suo tiro oppure di un'altra squadra, vuoi perché prima o poi la devi concedere. E quindi a livello di gioco meritava forse il Cagliari. Come ho visto la squadra, credo che il risultato di 1-1, a me mi hanno pareggiato due volte al novantesimo, ci può stare. Però credo che il Cagliari se gioca così sarà un avversario veramente tosto ai play-off. Perché oggi è giocato un'ottima partita, non ci ha fatto mai ripartire quella nostra caratteristica. Ci ha aggredito sul piano fisico e noi lì siamo stati un po' difficitari. Mario Frongi a Repubblica, Pierpale hai detto che in settimana sono pesante, anche la domenica appena hai pareggiato ne hai spalmato per terra due, eri durissimo. Ma questa carica paga sempre, cioè questa motivazione continua ti sta dando questi risultati, è dietro i 12 risultati utili di fila? Sì, io finché avrò questa voglia qui, allenerò, quando non ho voglia, mai sono già in pensione, mi ritiro e quindi vado in pensione. Credo che questa carica nel calcio attuale sia importante. Poi bisogna vedere i giocatori come la ricevono, se la ricevono con spirito di aiuto va bene, se la ricevi con altro spirito vai a contrasto e succede che ti mandano a casa. Ogni pulire di me è casuale. E quindi credo che nel calcio attuale sia importante, oltre che i moduli, questo l'ho anche appreso ascoltando le parole di un maestro che si è asseduto prima di me. Io ho detto che Ragnani non c'entra niente con la nostra categoria, te l'ho detto anche a te. Credo che se non fai un'empatia con i giocatori puoi giocare tutti i moduli che vuoi ma non vinci. L'empatia è la cosa più importante. Io credo che abbiamo creato veramente, noi fino a cinque minuti prima di giocare in campo scherziamo, ci tiriamo l'acqua dosso, l'Ico Deleba, poi quando entriamo accendiamo, poi possiamo anche perdere. Ancora non l'abbiamo fatto, però credo che sia importante. Sì, Enrico Gaviano, Nova Sardegna. Ciao Pierpaolo. Ciao. Allora, io così sono curioso di sapere, torni a Cagliari da allenatore, magari lo stadio non è lo stesso, però il pubblico è quello. Che emozioni si provano anche pensando a quell'esperienza che ho avuto anche da allenatore dopo le 164 partite da giocatore? Se ripenso a quella cosa d'allenatore mi viene il magone, quindi devo cancellarla, perché era un cerchio, ci sarebbe chiusa una favola, perché io credo ancora nelle favole, credo ancora nei sentimenti. Io quando sono entrato in campo e mi hanno applaudito la curva a sud, per me è stata un'emozione forte, sono ritornato indietro quando avevo 26 anni e ora era una 57, pensiamo te se sono tornato indietro. Poi però dopo sono un avversario, quindi sono brutto da vedere, sono scomodo, non risulta simpatico e quindi molto probabilmente molti non capiscono il mio atteggiamento, ma se fossi dalla panchina di là lo farei anche per il Cagliari contro, faccio un esempio, contro un'altra squadra che avrei allenato. È il mio modo di fare e non è una mancanza di rispetto, è proprio il rispetto che porto quando mi vengo chiamato per allenare. Se non riesco a dare tutto preferisco farmi da parte e fare allenare. Io sono fatto così, ero da giocatore e da allenatore. I risultati che ho tenuto, ho avuto la fortuna di vincere cinque campionati, di fare due salvezze incredibili, adesso siamo qui a scrivere quasi una favola importante. Le ho tenute con questo, con passione, con voglia. Oggi mi hanno chiesto un giorno in più, glielo ho dato perché se lo meritano. Io do i premi a giorni, se sbagliano l'atteggiamento non gli tolgo il giorno. Se fanno l'atteggiamento giusto, siccome soldi non ne ho in tasca, mi tocca dargli questo. Poi il calcio è bello anche perché deve essere passione, se è solo l'economico sinceramente non è bello. È bello anche per le emozioni che si sentivano, rivedendo tutti i quali. Io oggi quando sono atterrato sono andato in albergo, oggi sono stato anche molto calmo, vi dico la verità, proprio perché sentivo delle emozioni dentro di me e avevo paura di mancare di rispetto a un popolo che ha amato e amo, nonostante che sia qualcuno che ti dice qualcosa, ma è normale che mi ha tirato due bottigliette, fa parte del gioco, quindi lo accetto sapendo che gli ho dato due punti e loro pensavano di accorciare. Però non ero io con la carica, il secondo tempo ero io, il primo tempo ero abbastanza calmo, quindi anche colpa della brutta prestazione me la prendo io. Non ho paura di dire che ho sbagliato io. Salve mister, buonasera. Questi mesi ci ha sempre abituato, ci ha sempre detto appunto non ci piangiamo addosso, viste le assenze eccetera eccetera, però oggi insomma siete venuti qua senza di fatto il centrocampo titolare con Tait fuori per squalifica e Berardinelli fuori per infortunio. Ecco, in questo senso aver trovato ulteriori risposte dal punto di vista caratteriale della squadra, questo punto qua che peso specifico ha da qui alle prossime sette? Di tanto, infatti io gliel'ho detto prima della partita che non dobbiamo piangere, ci è mancato è vero, la fisicità di Berardinelli e di Tait, però l'abbiamo compensata da squadra e quindi vuol dire che quando saremo in emergenza non ci piangiamo addosso e dobbiamo trovare risorse all'interno della squadra. Oggi secondo me i cambi sono stati determinanti, ma io glielo dico sempre che noi abbiamo cinque cambi che lavorano per il Sud Tirole e quindi credo che sia importante questo e quindi ho trovato delle risposte che mi fanno stare tranquillo anche, sono convinto che arriveremo a altre partite dove avremo un po' mancare Tizio e Caglio, ma noi questo non ci spaventa, noi siamo un gruppo, una squadra che deve ottenere il massimo per ogni partita, oggi abbiamo ottenuto un punto secondo me importantissimo. Salve, Salve. Salve, Bartolo Rosso, che è la Rai. Mister, se un ex ha deciso, o almeno ha pareggiato un altro ex, cosa vi ha dato la Rivei per il suo rinforzo? La Rivei è un campione, la Rivei è uno che si è messo a disposizione del gruppo, ci ha dato quell'esperienza, ci ha dato quella voglia, anche se non è un titolare fisso. L'anno scorso con me è stato determinante per la salvezza del Cosenza, ha fatto otto gol, non consecutivi, però ha fatto otto gol e due nella finale play-out. Quindi quando ho avuto l'opportunità di riprenderlo, sapevo di portare un campione a livello morale, poi lui gioca 5, gioca 10, gioca 20, gioca un'ora, gli dà il massimo. Come esempio, stiamo parlando di un giocatore, di un campione che ha girato molti campionati europei, forse anche di più di europei, dicono che è una bagianata. E quindi è il mondo, bravo. E quindi ho portato un valore aggiunto, infatti oggi è stato ripagato per tutte le panchine che ha fatto con un gol, poi ha detto che lo hanno fischiato. È normale, anche a me mi hanno fischiato dopo che abbiamo pareggiato, io ho esultato. Fa parte del gioco del calcio, l'importante è il rispetto che l'Arri ha per il Cagliari, che Bisoli ha per il Cagliari. E per molti sarà il rispetto che hanno per l'Arri vai, per Bisoli e molti tifosi. Poi ci sono quelli che mi fischiavano anche quando giocavo, figurati te, se no mi fischiano adesso. Posto? Ah no, scusa. Alberto Masoli, un'onestate di videolina. In questo momento il Sud di Tirol è la squadra più vicina alle due, che sembrano due squadre extraterrestri. Però se le mettessero lì e sono sul tavolo un foglio, finale play-off Cagliari-Sud di Tirol, firma subito? Sì, però ti dico che sono quelli del secondo tempo, così prepariamo tutti, che non concedo niente del primo tempo. Va bene? Ok, bocca al lupo per tutti.